Allora cari amici abbiamo vinto il derby, siamo tutti molto contenti, Milan batte l'Inter 3 a 2, è stata una partita bella, una partita intensa, è stata una partita che mi scuserete ma devo ancora riorganizzare nelle idee perché è successo di tutto questa sera, ma quello che ci portiamo a casa è una vittoria dal mio punto di vista meritata. L'Inter è stata surclassata per lunghi tratti del primo tempo e anche all'inizio della ripresa, poi ha avuto il merito anche grazie ai cambi di Inzaghi di rimettersi in pista e di trovare il gol del 3 a 2 che ci ha fatto passare una decina di minuti veramente di grande sofferenza. Però nel complesso della gara credo che il Milan abbia meritato, è un Milan totalmente diverso rispetto a quello di Reggio Emilia ma questo lo sapevamo, un Milan molto grintoso e i connotati di questo derby si sono visti fin da subito, praticamente al terzo minuto, quarto minuto quando Dunfris e Teo sono venuti alle mani per uno scontro di gioco. Da lì in poi l'arbitro ha fatto tanta fatica, tanta fatica arbitraggio mediocre secondo me, ha fatto tanta fatica a gestire la partita, non era semplice ovviamente, ma insomma chi viene chiamato a dirigere queste partite deve essere in grado di farlo. E il Milan porta a casa tre punti importantissimi per la classifica, adesso siamo in testa con 11 punti ovviamente in attesa di Atalanta-Roma e tutte le altre. E devo dire che è stata una partita dove abbiamo visto alcune cose molto molto interessanti, al di là dei duelli, al di là di giocatori che hanno annientato altri giocatori, adesso ne parliamo. Ci sono state veramente delle cose tattiche che mi sono piaciute molto da parte del nostro mister e invece altre che mi sono piaciute un po' meno, soprattutto la tempistica dei cambi nel secondo tempo. Partiamo dall'impostazione delle due squadre. Il Milan torna al 4-2-3-1, classico, ma non tanto, poi vedremo perché. Torna al 4-2-3-1 con De Ketteler titolare e Origi davanti, Junior Messias e Leao con Benasser e Tonari coppia titolare. L'Inter si presenta con una formazione senza Lukaku e l'è andata bene, che non ci fosse, perché Correa questa sera ha fatto un'ottima partita e l'Inter ha un altro sviluppo di manovra, almeno fino a quando può farlo, nel senso fino a quando non si trova di fronte a una squadra che ruggisce davvero su ogni pallone e dimostra anche da un punto di vista tecnico di avere qualcosina in più. La grande idea di Pioli è stata questa, dice io ho soprattutto la volontà di non far pendere l'Inter a destra, sapendo che l'Armiana avrebbe fatto una partita più difensiva che offensiva, anche se poi nel secondo tempo è stato protagonista nel gol di Dzeko. Io sposto tutta la mia azione sulla sinistra, ma non solo da un punto di vista della direttrice che porta da Teo a Leao, ma anche da un punto di vista di Tonali, un'idea tattica che rimanda a un Milan che fu, vi ricorderete, quando ci fu la diatriba su Pirlo, marcato come vertice basso e venne spostato più a sinistra per consentirgli maggior raggio d'azione. Questa sera è stato fatto con Tonali, che ha unito non solo una grande qualità finendo in mezzo ai gol, ma anche una grande qualità, anzi ho detto non solo una grande quantità, ma anche una grande qualità. Tonali ha fatto una partita super fin tanto che ne ha avuto e qui devo tirare un po' l'orecchio al nostro mister, perché nel secondo tempo quando l'Inter ha avuto quei dieci minuti di fuoco, dove abbiamo seriamente rischiato di prendere il 3 a 3, se mai che non si fosse dimostrato uno dei migliori portieri al mondo, facendo due parate straordinarie, la prima sul colpo di testa di Lautaro e la seconda sul destro di Cialanoglu, avremmo davvero preso il 3 a 3 perché non riuscivamo più a coprire le zone di campo. L'Inter che nel primo tempo ha annullato la propria propensione sulle fasce causa nostra, provando ad andare soprattutto centralmente ed è andata bene, perché, anzi è andata bene, abbiamo sbagliato noi. Allora, nell'occasione del gol dell'Inter c'è stato un grandissimo qui pro quo, perché Calulu, credo fosse Calulu, anzi sicuramente era lui, va in pressione su Lautaro. Lautaro fa una difesa della palla eccellente, Tomori va prima su Lautaro, poi su Correa, a quel punto si crea un buco in mezzo, Decatelar non segue Brozovic fino in fondo e Brozovic fa un inserimento che, diciamo, dal mio punto di vista non gli appartiene nel suo bagaglio, ma lo fa bene e ci infilza. E quindi lì si vede proprio come l'Inter abbia accettato di rinunciare all'offensiva sugli esterni, perché a destra doveva preoccuparsi dei tre giocatori che vi ho detto, a sinistra Darmian ha più aiutato la fase difensiva che offensiva nella prima frazione e l'Inter centralmente è andata. A quel punto però la partita è cambiata, fino a quel momento era stata abbastanza equilibrata, forse anche un pochino meglio l'Inter, a quel punto però ci siamo svegliati, abbiamo fatto 20-25 minuti veramente da grandissima squadra. Ritmo, intensità, velocità, azioni, scambio, ripartenze, gol soprattutto. Il gol di Leao molto bello su un pallone recuperato da Tonali, su un errore in uscita dell'Inter. Il gol del pareggio ci ha dato una grande grinta, abbiamo avuto altre occasioni, abbiamo sbagliucchiato qualcosina di troppo in zona offensiva, con un po' più di accortezza in fase difensiva e un po' più di precisione in fase offensiva, il primo tempo l'abbiamo potuto chiudere anche in vantaggio e anche di un paio di gol, secondo me. L'Inter ha fatto veramente tanta fatica in quella fase della partita, davvero non riusciva a uscire, davvero non riusciva a togliersi dai piedi i nostri giocatori che erano dappertutto. Siamo una squadra che rischia, sì, l'abbiamo dimostrato oggi, ma quando hai un Tonali e anche un Benasser così, perché Benasser questa sera ha fatto una signora partita, veramente una lucidità impressionante fino alla fine, quando hai contro una squadra così è chiaro che è difficile e soprattutto quando hai contro poi giocatori come Leao che strappano e che portano la partita su un altro piano. La mossa Tonali ha oltretutto annullato Barella, perché Barella non ha potuto fare nulla dovendo stare attento a ciò che faceva il nostro numero 8, e il primo tempo si è chiuso con, come dire, una sensazione dal mio punto di vista di amaro in bocca, perché appunto avremmo potuto fare di più, e se fossimo stati un po' più precisi saremmo riusciti a vincere il primo tempo, cioè a finire in vantaggio addirittura il primo tempo, cosa che invece è successa nel secondo tempo, dove abbiamo approcciato benissimo facendo le cose che abbiamo fatto alla fine del primo tempo, trovando il bel gol di Giroud. A quel punto la partita era in controllo e siamo andati a fare al minuto 60, perché Giroud ha segnato al 54esimo, al 60esimo Leao si inventa un gol. Lancio di Tonali, Tacco di Giroud, Leao, come si dice dalle mie parti, Schiribiccia tutta la difesa dell'Inter, cioè, diciamo, dribbla, ecco, dribbla, era una cosa che si diceva allo Stadio Friuli quando andavo a vedere le partite, Schiribiccia tutta la difesa dell'Inter e segna il gol del 3-1. O, purtroppo però, per noi, il gol del 3-1 è arrivato, come dicevo, al 60esimo, cioè un pochino presto. Ricordiamoci che prendere un gol è sempre meglio prendere all'inizio della partita, fare un gol è sempre meglio decisivo, fare un gol è sempre meglio farlo alla fine di una partita, perché se lo fai con 30 minuti da giocare puoi rischiare, soprattutto con una squadra come l'Inter, che è una squadra seria, non è certo una squadra debole. A quel punto abbiamo cominciato a tirare un po' il fiato, inevitabilmente, Pioli ha fatto dei cambi, ma secondo me il cambio al centrocampo, con l'ingresso di Pobega, che è entrato bene, andava fatto un po' prima perché si vedeva che Tonali e Benasser non riuscivano più a coprire tutti gli spazi, ci siamo un po' spaccati in due, abbiamo un po' allentato quelle che erano le prerogative che ci hanno fatto fare così bene fino a quel punto, cioè le distanze tra le parti, è chiaro, sappiamo benissimo, lo sappiamo che se devi fare la pressione alta difendendo alto, la squadra deve essere cortissima, altrimenti rischi o di spaccarla o di avere troppo campo alle spalle. L'Inter è entrata in gara su una dormita di Calabria, che si è fatto infilare alle spalle, Calabria che è andato in difficoltà, tant'è che poi Pioli l'ha anche tolto, mettendo Calulu a destra e chi era in mezzo, su una dormita sua, su un anticipo di Dzeko su Tomori, Tomori questa sera ha alternato delle cose molto buone a queste situazioni nei gol, dove non mi è piaciuto tantissimo e prendiamo il 3-2. Dopodiché entra in scena uno dei portieri più forti del mondo, e cioè Mike Mignan che ha disinnescato le velleità dell'Inter. A quel punto la gara si è riequilibrata anche grazie all'ingresso di Origi, che è riuscito a fare quello che probabilmente Pioli gli ha chiesto, cioè tenere palla e far salire la squadra. L'Inter ha provato con qualche cross, con qualche situazione e quel tiro di Mkhitaryan alla fine ha fatto disperare, anzi ha fatto tremare le gambe a tutta la panchina rossonera, l'abbiamo visto nelle inquadrature, e tutti noi, tutti i tifosi allo stadio e tutti quelli a casa. Ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Ripeto, secondo me il Milan vince con merito questo derby, con una prestazione importante, una partita difficile anche da un punto di vista psicologico, perché sapevamo quanto l'Inter sarebbe entrato in campo con aggressività, con voglia di rivalsa rispetto a tutti gli ultimi mesi, di Radu, di tutte queste storie qua, di scudetto non meritato nostro, ovviamente non detto da loro, ma detto da tanta gente, anche opinionisti, opinionisti che dicono che il Milan è stato culo, che abbiamo vinto lo scudetto. Beh, questa sera abbiamo dimostrato invece di essere campioni d'Italia per una ragione, cioè per il fatto che siamo una squadra molto forte. Migliorabile? Sì. Molto giovane? Sì. E quindi queste due cose vanno di pari passo, ma il futuro è nostro. Per quel che riguarda le prestazioni individuali, devo dire che l'osservato speciale ovviamente è stato De Ketelare, o De Ketel come preferite, è uguale, credo che nel primo tempo abbia risentito un po' della situazione, ed è anche giustificabile, in fin dei conti è la prima gara importante che fa con la maglia del Milan, ha alternato alcuni momenti un po' di pensiero eccessivo ad altri di lampi geniali dove si intravede quello che può essere il suo potenziale, avrà tutto il tempo per essere decisivo in Champions League, in altre partite, in tutto quanto, perché la classe c'è, il fisico anche, tutto sommato qualche sportellata l'ha anche fatto. Il lavoro su Brozovic l'ha fatto con una certa costanza fino a un certo punto, poi verso il fine del primo tempo Piolic ha messo Tonali sopra Brozovic, rimettendolo un po' verso il centro, però insomma devo dire che è stata una partita, secondo me sufficiente, perché abbiamo vinto, ma insomma avremo modo, ripeto, di rivederlo. Per quel che riguarda Leao e Giroud, per parlare del reparto offensivo, Leao, Giroud e Junior Messias, beh Leao non serve che vi dica niente, questa è stata una di quelle sere dove tutti noi ci siamo alzati in piedi e quando veniva inquadrato Cardinale in tribuna a lui rivolgevamo la nostra preghiera, fermalo, tienilo, perché questo è un fuoriclasse, non lo è ancora, ma lo sta diventando, se farà prestazioni così decidendo le partite decisive, credo che possa davvero iscriversi, visto che questa sera è stato chirurgico nelle due circostanze dove si è potuto mettere nella condizione e si è potuto da solo, nel senso che si è preparato bene per segnare il primo gol e se ha fatto quasi tutto lui nel secondo gol, quindi devo dire che questa sera ha giocato veramente da fuoriclasse. Giroud, beh Giroud uomo derby, ovviamente, segna come si gira e Junior Messias, vabbè Junior Messias e Junior Messias non è incolpabile. Meglio questa sera di Reggio Emilia, ma niente di che, lì da quel lato siamo evidentemente un po' in deficit, anche per quel che riguarda il confronto con l'altro lato del campo. Per quel che riguarda il centrocampo, detto della partita stratosferica di Tonali, io darei una partita straordinaria anche a Benasser, sinceramente, che mi è piaciuto molto anche nel finale quando ha cercato di colpire di testa su Edin Dzeko, un gesto veramente da libro cuore, tra l'altro prendendola, e quindi poi la difesa, la fase difensiva, Calabria così colà, meglio nel primo tempo che nel secondo, Tomori, partita da sei, per quelle due situazioni, secondo me in occasione del primo gol dell'Inter, un po' di colpa ce l'ha anche lui, perché se il tuo compagno di reparto va a chiudere alto, tu devi coprirgli le spalle. E vabbè, comunque, chi se ne frega. E abbiamo vinto. E poi Teo, che è stato inevitabilmente condizionato dal giallo, preso poco, dopo poco tempo, che nel secondo tempo ha rischiato su Dufris, l'arbitro, insomma, che ha arbitrato un po' l'inglese, un po' no, ha lasciato correre, e poi Mike Magnano, il mio portiere del mondo. Bene, detto questo, io ringrazio i ragazzi, ma anche quelli dell'Inter, ringrazio, per averci fatto passare un'ora e mezza di grandi emozioni, di grande, anche di calcio, bello, quello soprattutto noi, ma anche l'Inter, che ci ha messo le sue caratteristiche, che ci ha messo in difficoltà, che ha provato a rientrare in partita, ma questa sera il Milan, questa sera il Milan, questa sera il Milan, ha dimostrato di essere più forte, dell'Inter, che sarà comunque un avversario per lo scudetto, ma noi ci siamo, siamo lì, e questa partita è un'iniezione di fiducia stratosferica, per le prossime che arriveranno a partire da quella di martedì, a Salzburg contro il Salzburgo. Un abbraccio a tutti, buona serata, forza Milan!